L'ampio angolo di rotazione orizzontale 355 gradi e l'inclinazione verticale 90 gradi aiutano a monitorare la tua casa nel modo più panoramico possibile. Puoi facilmente controllare l'angolo di visione tramite l'applicazione mobile ICC per vedere ogni angolo della tua casa. Ascolta da remoto ciò che accade in famiglia o in ufficio e parla con un semplice tocco dell'icona del microfono utilizzando il tuo cellulare attraverso l'applicazione ICC. Con il microfono e l'altoparlante integrati della telecamera, comunica con anziani, bambini, babysitter o animali domestici lasciati a casa, oppure puoi avvertire verbalmente qualsiasi intruso anche quando sei a migliaia di chilometri di distanza. La telecamera di sorveglianza PNI-IP735 rileva il movimento nel suo campo d'azione e invia notifiche in tempo reale al telefono cellulare tramite l'applicazione ICC e registra l'evento sulla scheda microSD acquistata separatamente. Installare una scheda microSD di al massimo 128 GB nella telecamera su cui verranno salvate tutte le registrazioni. È possibile impostare la registrazione continua o solo sul rilevamento del movimento. Accendi alle registrazioni direttamente dal tuo telefono cellulare tramite l'applicazione ICC. Grazie. Grazie a tutti.